Salve, un cordiale saluto. Saluto a tutti voi, amici e amiche di Teledeon e di Amico Libro, partiamo come amiamo fare da una prima piccola ma importante sezione di carattere religioso, spirituale, a cura di Mircea Eliade, a cura perché Mircea Eliade ha raccolto attorno a sé molti studiosi per una enciclopedia delle religioni. Allora ecco per i tipi di Yacabuk, dizionario dell'ebraismo, vedete già in copertina AI, per dire prima parte, primo volume, a cui dovrebbe seguire un secondo volume e allora i vari termini, anno ebraico, ebraismo, ancora Elia in ordine alfabetico, Geremia e quindi sono luoghi, personaggi, studiosi, Hoffman, profeti, Isaia. Ripetiamo un primo volume di consultazione naturalmente come ogni dizionario e aspettiamo il secondo per presentarvelo. Dalla San Paolo, il profumo del Natale, padre Enzo Fortunato, amabile frate francescano, il Natale di Maria, nove meditazioni con i colori di giotto dalla San Paolo. E allora possiamo immaginare, ma l'immaginazione deve essere accompagnata da queste mirabili visioni che inquadriamo e abbiamo questo Natale di giotto, vedete, caratteristico, ma naturalmente c'è tutto uno studio, una presentazione per i contenuti biblici, evangelici, ma anche le leggende, come amiamo fare a caso, c'è un episodio narrato da Tommaso da Celano che ci pare particolarmente calzante e ci dice come anche Francesco fu un immigrato. Egli voleva recarsi in serie, ma fu costretto a un cambio di programma e così decisi di tornare in Italia. Le vedo questo passo? Per dare un'idea di questo bel volume, vedete, tutto illustrato con i colori di giotto, ma anche arricchito con questo testo di padre Enzo Fortunato che ci accompagna con gusto verso il Natale. Vediamo qui la conclusione. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. E' una ripresa da una enciclopedia del cinema che padre Fortunato mette a conclusione di questa vicenda. Buon cammino, cari amici, anzi buon Natale, brava gente. E veniamo a una seconda sezione dedicata al mondo di lei. Partiamo da questa pubblicazione di Oltre, ed è non soltanto lei, la moglie, la madre, ma anche i bambini, insomma una famiglia. Questa pubblicazione di Aghiberta, Confini incerti, ci porta appunto a quelle zone di confine come può essere la Slovenia, la Croazia, il Trentino, dove appunto le guerre obbligano le famiglie, le persone a spostarsi continuamente a seconda delle vittorie, delle sconfitte, delle strategie di eserciti contrapposti. E il volume ha due sezioni nettamente distinte sul piano storico. C'è una prima sezione attorno alla Prima Guerra Mondiale e una seconda sezione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il vestito che vediamo in copertina non è di Adele, inquadriamo, ma della sorella, morta giovane, e il padre, celebre, celeberrimo Victor Hugo, pianse per tutta la vita, non consolato da Adele, che si credeva bella, intelligente, ma poi diventa pazza perché insegue un amore non corrisposto. E naturalmente non possiamo non riferirci a un film bellissimo, come al solito François Truffaut, che nel 1975 mise fuori questo film, appunto Adele H, per dire Adele Hugo, e abbiamo annotato un riferimento, vediamo, a pagina 60, ecco, non dobbiamo immaginare Adele Hugo con le fattezze di Isabelle Ajané nel noto film di Truffaut. Appunto, Isabelle Ajané è una bella ragazza, una bellissima attrice, ma Adele Hugo se la credeva, ma così bella non era, poi appunto diventa anche pazza. E veniamo alla Firenze University Press con Giulia di Rosalia Manno, Giulia una donna nella Toscana dei Medici. E' una povera ragazza che viene scelta per provare la virilità di un aspirante a un matrimonio nobile. E questa povera ragazza deve sottomettersi. E qui vengono ricordati il padre, che l'abbandona appena nata, non la riconosce, Luca degli Albizzi, 1382-1458. Lo sposo che le danno dopo appunto aver subito questa prova di fertilità di questo nobile, Cristoforo Digni e poi abbiamo altri personaggi che vengono rappresentati in queste immagini che possiamo inquadrare a partire dall'ospizio qui a destra dove questa fanciulla abbandonata cresce fino a quando viene scelta. Ecco qui un'altra immagine per illustrare le nozze. Le nozze furono celebrate con grande sfarzo il 30 aprile e dopo qualche giorno lo sposo volle dare a Belisario Vinta un segno della gratitudine. Poi ancora abbiamo questa immagine chiaramente leonardesca per dare un'idea dei personaggi e poi ancora le vicende di questa fanciulla che viene data in sposa dopo aver subito questa prova di virilità di questo nobile. E veniamo a un'altra piccola sezione da Baldini a Castoldi, storia di un figlio andata e ritorno di Fabio Geda e Anna Yatollah Akbari. Vedete? Romanzo c'è scritto. E noi ripetiamo sempre un'espressione che crediamo dà il senso di questi romanzi più o meno storici dove i luoghi che qui vengono rappresentati in questa cartina che vi mostriamo sono percorsi tra realtà e fiction, tra storia e fantasia. Vediamo un primo riferimento. Oddio Onnipotente, dammi le ali che possa superare questa collina perché questa collina è insuperabile così che possa avere notizia di mio fratello. E poi andando avanti abbiamo altri riferimenti che ci illustrano questa storia. Vediamo un po', le abbiamo annotati diversi, compreso anche un riferimento a Nietzsche. La sua anima con la sua lingua insaziabile ha già leccato ogni cosa buona e cattiva, si è immersa in ogni profondità, ma sempre simile al sughero essa torna a nuotare in superficie, volteggia, giocando come olio su mari bruni, in vista di quest'anima mi si chiama Beato. Chi mi è padre? Chi madre? Non mi è padre il principe abbondanza? E non mi è madre il quieto ridere? E vediamo ancora un ultimo riferimento per dare un'idea di questo procedere tra storia e fiction. e siamo ai muazzin, alla uakbar, Dio è grande. Attesto che non c'è altro Dio all'infuori di Dio. Attesto che mi ometto il messaggero di Dio. Affrettatevi alla preghiera, affrettatevi alla felicità, affrettatevi a compiere l'azione migliore, Dio è grande, Dio all'infuori di Dio. Come vedete sono questi romanzi cosiddetti storici che portano poi, come in questo caso, questa professione di fede musulmana che è un'occasione per conoscere un po' più da vicino l'Islam. E' da junior in cerca di guai studiare la letteratura per l'infanzia. Vedete in fondo a destra sono diversi autori. E noi dopo aver percorso questo volume, come vedete, tutto illustrato da queste edizioni per l'infanzia, abbiamo annotato una specie di decalogo che è molto istruttivo, fingendo di concludere. I bambini leggono libri, non recensioni. Per loro il giudizio dei critici non vale una cecca. Non leggono per cercare un'identità. Non leggono per liberarsi dai sensi di colpa, né per soddisfare la loro sete di ribellione, né per sbarazzarsi dall'alienazione. Non sanno che farsene nella psicologia. Detestano la sociologia. Non cercano di comprendere Kafka o Finnegan's Wake. Credono ancora in Dio, nella famiglia, negli angeli, nei diavoli, nelle streghe, nei folletti, nella logica, nella chiarezza, nella punteggiatura, in altri simili vecchiumi. Amano le storie interessanti. Non i commenti. Non le guida alla lettura. Non le nota a piedipagina. Quando un libro le annoia, sbadigliano senza scrupoli, senza alcuna vergogna o timore dell'autorità. Così Singer in Perché scrivo per i bambini. Noi speriamo di avere degli adulti non così esigenti come i bambini. E veniamo a un'altra bella sezione. E quando ci entusiasmiamo vuol dire che ci avviciniamo a qualche cosa che ci è più familiare, più caro. Da Marietti, ma questo è il minimo, eh, di questa piccola sottosezione. Sindbad il Marinaio, traduzione inedita del 1701 di François Petit Lacroix, edizione critica a cura di Abu Bakr, caribì, e Ulrich Marsolf. Da Marietti abbiamo detto che ringraziamo per questo invì, ma dobbiamo dire che queste avventure di Sindbad il Marinaio, che è una sezione delle Mille e una Notte, è piuttosto ripetitiva e, sfidando l'impopolarità, oseremmo dire piuttosto noioso. Invece, da Nema Press, vedete questo carissimo vecchietto Ungaretti, a cura dell'Associazione Internazionale dei Critici Letterari, Ungarettiana, per i 50 anni dalla morte di Giuseppe Ungaretti, a cura di Neria di Giovanni. E all'interno, accanto ai giudizi dei critici, il meglio, come andiamo a fare, leggere qualcosa. Ma Dio cos'è? E la creatura atterrita sbarra gli occhi e accoglie gocciole di stelle. E la pianura muta e si sente riavere in risvegli di Ungaretti, appunto. E a piedi pagina, come amiamo fare a caso, abbiamo un profilo della vita e dell'opera di Ungaretti, del quale cerchiamo ancora qualche riferimento. Un vagante raggio ebbe la luce, tenue filo dell'anima, del mio bacio donato solo dal desiderio, ma dall'esilio ci libererà l'ossinato mio amore. Così rispondeva Bruna Bianco al messaggio di Ungaretti, che adesso vi leggiamo. Sei comparsa al portone in un vestito rosso per dirmi che sei fuoco, che consume e riaccende. Percorremmo la strada che lascia nel rigoglio della selvaggialtura, ma già da molto tempo sapevo che soffrendo con temeraria fede l'età per vincere non conta, dice Ungaretti, per quasi scusarsi di essere sempre innamorato nonostante il procedere degli anni. Abbiamo una preziosa antologia di testi, Todo e perdido, todo e perdido della infanzia. Questo è Giuseppe Ungaretti tradotto da Carlos Vitale e accanto alle traduzioni abbiamo l'originale, naturalmente tutto perduto dell'infanzia e via di questo passo. Anche questa notte passerà, scriveva Ungaretti, e il traduttore, Tambien e stanoce, passerà. Sorpresa dopo tanto d'un amore, credevo di averlo sparpagliato per il mondo, e non stiamo a leggere la traduzione in castigliano. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, e poi naturalmente mi illumino d'immenso, tradotto mi illumino de immensidad, naturalmente. E' da L'Adolfi di Giovanni Giacomo Gabiano, sfido qualcuno degli amici a dirmi che lo conosceva, un umanista del Cinquecento Lombardo, poesia latina di ispirazione religiosa e mariana. Questo Giovanni Giacomo Gabiano è un ecclesiastico, un prezioso volume che ci dà il profilo biografico di questo autore, ripetiamo, certamente poco conosciuto, e qui in modo particolare un suo poema, Le lacrime di Maria, De lacrimis, Beate Virginis Marie, che è l'opera principale. Vedete, viene riprodotto il testo latino con la traduzione italiana. Da qui la mia felicità mi assicura che i sovrani cederanno davanti a me e possa tutto ciò rimanere finché sarò accettato nella città di Dio. Io parlo con te, o Cristo, la mia voce chiama te soltanto, senza di te non sorge per me alcun giorno, non scende alcuna notte. Insomma, è Maria che parla. Vedete qui un frontespizio con una piccola riproduzione. Poi c'è il testo riprodotto con caratteri moderni, ripetiamo, traduzione italiana a fianco. Vediamo ancora qualche altro riferimento. Tu che colmi di lodi il mare, la terra e il cielo, tu, Vergine, Madre di Dio, concedimi di raccontare le tue lacrime e la preghiera bagnata di pianto che già pronunciassi davanti a tuo figlio mentre veniva immolato in nome del padre sull'altare elevato. Que mare, que terra, ripetiamo una perla, una rarità che vi presentiamo con un pizzico di orgoglio. E per concludere questa prima parte dalle Dioniane di Bologna, le nostre consorelle, di Antonio Loperfido, ti ricorderò per sempre lutto e immortalità artificiale. Questo pensatore che troviamo in copertina, ci richiamo in qualche modo il pensatore di Rodin, lutto, chiaro, la morte e l'immortalità artificiale di quelli che si fanno congelare, surgelare in attesa di un improbabile ritorno alla vita. Eravamo andati troppo veloci e ci eravamo lasciati indietro l'anima. Ci siamo fermati per aspettarli. E qui ci sono diverse testimonianze di queste persone che in qualche modo appunto inseguono questo desiderio. Molte volte sono genitori di figli che si sono suicidati o che sono periti tragicamente che appunto vogliono ricordare e vogliono insistiamo vogliono illudersi in questo ritorno alla vita artificiale. Allora dalle Dioniane di Bologna ti ricorderò per sempre dalla Dolfi un umanista del Cinquecento Lombardo Giovanni Giacomo Gabiano un Garetti riconoscibilissimo questo amabile vecchietto Sindbad il marinaio le mille una notte che ci hanno piuttosto deluse per la ripetività da Baldini a Castoldi andata e ritorno storia di un figlio è in cerca di guai per la letteratura per l'infanzia di diversi autori Giulia una ragazza abbandonata dai genitori che viene data in prova a un nobile che deve sposarsi da Firenze University Press Adel Hugo pazza d'amore e abbiamo ricordato il bellissimo film di Truffaut con Isabella Gianni a Giberta confini incerti sono sempre incerti i confini di quei paesi che confinano tra di loro e eravamo partiti dal primo volume di un dizionario dell'ebraismo da Jakabuk e da Il Natale di Maria a firma di padre Enzo Fortunato con le illustrazioni di Giotto da San Paolo una sezione conclusiva bellissima da Olski Andrea Parasiliti all'ombra del vulcano il futurismo in Sicilia chiaro il vulcano e l'Etna il futurismo in Sicilia e l'Etna di Marinetti dunque futurismo in generale ma in particolare Marinetti di cui qui si illustrano le opere le pubblicazioni le provocazioni le avventure pubbliche e private molte composizioni molte riproduzioni e da Reverdito a Rive e Camillo Rigo Lucio Fontana incisioni grafica multipli pubblicazioni quindi un volume composito di questo artista moderno non facile da capire e da apprezzare noi senza modestia diciamo che non lo capiamo e scusate nemmeno lo apprezziamo moltissimo ma il nostro giudizio vale nulla vi mostriamo allora queste riproduzioni e salendo un po' più in alto da insieme di Terlizzi in paupertate splendor facilissimo splendore nella povertà la chiesa e il convento dei cappuccini accorato tra memoria storica e prospettive future a cura di Angela Paganelli e allora tutto il volume oltre che le illustrazioni che vi mostriamo porta anche tutte le note le spiegazioni vedete i riferimenti anche storici bollario raccolta di bolle dell'ordine dei frati minori San Francesco dei cappuccini eccetera eccetera e abbiamo ripetiamo queste illustrazioni i luoghi le chiese che ospitano questi capolavori e poi naturalmente le note storiche qui abbiamo sotto gli occhi San Bonaventura di Bagnoregio che naturalmente appare tra queste illustrazioni San Bernardo a Corleone quindi santi più noti e santi meno noti i paramenti liturgici importante anche questa sezione insomma un bel volume questo impaupertato splendor e concludiamo per davvero con le edizioni San Pio di Pietrelcina la vetrata di Michele Canzoneri di Dacchè ricordate di Dacchè abbiamo avuto modo di parlarne in alcune occasioni uno dei primissimi scritti di Dacchè all'insegnamento uno dei primissimi scritti cristiani è in questo volume appunto questa vetrata di Michele Canzoneri che è arricchita da alcuni testi e dai commenti sopra il calice ti ringraziamo Padre nostro per la santa vita di Davide tuo servo che tu ci hai fatto rivelare da Cristo Gesù tuo servo gloria a te nei secoli Amen gustiamoci queste illustrazioni di Canzoneri a cui è dedicato questo bel fascicolo delle edizioni di San Pio da Petrecino vedete la firma illustra illustra di Crespino Valenziano Presbitero Siciliano è un dotto cultore delle belle arti oltre che conoscitore di teologia e dei padri poi c'è una biografia di Michele Canzoneri che vediamo qui al lavoro con questo bel volume che conclude il nostro amico libro sempre dedicato al vostro gusto e alla vostra intelligenza se c'è arrivederci Grazie Grazie a tutti